Facciamo gli auguri a Paolo della San Giorgese che oggi compie 31 anni. Allora, squadra nuova, ce la vuoi presentare? Niente, è una squadra nata quasi 20 anni fa, l'oratore di Merturago, di Arona, provincia di Novara, ha dei ragazzi di cuore e di esperienza che ci hanno messo la voglia di preparare e portare avanti questo progetto della San Giorgese, cercare di divertirsi e cercare di fare risultati. Prima calcio a 11, dove il campionato di CSI ce la siamo giocata in vari anni, in vari gironi e da post-Covid cerchiamo di dilettarci nel campionato a 7 con impegno e cerchiamo di divertirci. Ciao ragazzi, in bocca al luo per le prossime partite, forza! Grazie mille, forza San Giorgese, seguitaci!